Progetto di Cremona City Hub, un progetto ridimensionato dall'amministrazione comunale cittadina che consente così di mantenere l'assetto attuale del foro Boario. Ne parliamo con l'architetto d'Italia Nostra, Michele Di Crecchio, qua con noi stasera. Buonasera. Buonasera. In che cosa consiste quindi questa nuova versione del progetto di Cremona City Hub e che cosa ne pensa? In sostanza si tratta di un atto di buonsenso, di ripresa della razionalità nella gestione del territorio urbano. La precedente amministrazione, in una fase di follia, aveva ipotizzato una colossale colata di cemento sull'area dell'ex foro Boario. Cioè su quell'ampio parcheggio integralmente alberato, credo che si tratti di cento e più tigli che a primavera danno un effetto meraviglioso, molto amato dai cremonesi. Beh, la precedente amministrazione purtroppo aveva proposto di buttare a mare il parcheggio alberato e consentire l'edificazione integrale e intensiva di quest'area. Il tutto sotto la retorica definizione di City Hub, porta della città, termine retorico che nascondeva la volgarità della tragicomica operazione speculativa che si andava allora ordendo sulla pelle dei cittadini e sulla pelle della città. La nuova amministrazione aveva promesso, in effetti già in campagna elettorale, che avrebbe riveduto questa orrenda previsione urbanistica introdotta a suo tempo già come variante al piano regolatore, avrebbe riportato le cose ad una condizione di più accettabile portata. Cosa che è avvenuta recentemente con una variante che purtroppo ha determinato una polemica in Consiglio Comunale, è una variante che avrebbe dovuto essere approvata all'unanimità e con gli applausi, ma che ha trovato non favorevole la vecchia amministrazione, i rappresentanti della minoranza, e la cosa è ragionevole perché erano stati quelli che avevano voluto questa follia, e per la verità ha avuto una difesa debolina da parte della stessa amministrazione vigente, la quale ha sostenuto l'opportunità di tale variante per la mancanza di risorse, o bella, perché mancano i soldi non si fa una nefandezza. Salvo il Foro Buario, cosa rimane del progetto di Sitiab? Il progetto oggi come oggi è ridimensionato, anche in altre parti che qui non è il caso di andare a spiegare, ma semplificato e reso più razionale, soprattutto l'edificazione viene mantenuta solo nella zona della cosiddetta area non aria, l'area che era stata destinata negli anni 50 con una saggia visione da parte dell'amministrazione comunale a servizi pubblici, aventi riferimento all'approvvigionamento alimentare della città, quest'area per ragioni economiche ha perso la sua funzione, viene oggi riciclata per funzioni più adeguate all'economia locale, e questo è tutto positivo. Ci sarà una nuova conformazione di questa parte della città con il polo tecnologico e il suo sviluppo futuro e questa parte di Sitiab? Sì, sicuramente, questo è sicuramente un fatto positivo, perché lo stesso Sitiab è stato ridimensionato, la stessa parte superstita del Sitiab è stata ridimensionata con maggiore razionalità, maggiore adesione alle caratteristiche dei terreni. Il progetto precedente era il frutto, un po' retorico e sovrabbondante, e soprattutto fortemente speculativo, di un brutto progetto che era stato espresso da un concorso di idee senza nessuna partecipazione, senza nessuna discussione seria all'interno della città. Io ringrazio per essere stato con noi l'architetto Michele De Crecchio di Italia Nostra. Prego, arrivederci.